Il matrimonio è quando si sposano una donna e un uomo, no? Che succede? La donna sposa un uomo sperando che lui cambi, e lui ovviamente, e anche giustamente, perché devi cambiare, invece che succede? Al contrario, quando un uomo sposa la donna spera che lei invece non cambi, e invece immancabilmente, ecco, allora dico puttimo gli raccorti, voglio dire, quindi cazzo te lo fa fare, no? Per dire, uno non te scusi, stai tanto bene, no? Ma insomma, mia nonna mi disse, barmina mia, quando mi sono sposata, mi disse, barmina mia, nonna sei la prima nipote che mi sei spusa, quindi ti augura tanta fortuna, veramente tanta, un bar di chile di pacienza, perché veramente quella proprio, eh? Però, coca mia, nonna, non te illude, perché il matrimonio, bene che vala, è una grande inculata, me l'ha detto nonna, eh?